Gli artigiani di quest'anno sono molto diversi tra loro. Ci sono piccolissime realtà che hanno un'ottima idea, hanno un bel prodotto, ma non sanno assolutamente come arrivare al mercato e aziende molto strutturate che a causa di cambiamenti economici debbono reinventarsi. Purtroppo molti di loro si concentrano sul prodotto, ci vengono a raccontare i materiali, la produzione, tutte cose decisamente importanti, ma che non sono il punto di partenza. La verità è che dovremmo partire dal cliente, capire esattamente cosa vuole, che amerà e poi comprerà il prodotto che noi abbiamo. Molti spunti, ma soprattutto ho notato l'entusiasmo e la grande voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco. Il nostro ruolo sarà quello di riuscire a tirar fuori il vero potenziale dai finalisti e portarli ad avere risultati consistenti.